Il lavoro che presento a Door to Door, la seconda edizione, è un lavoro che avevo sviluppato inizialmente, tanto tempo fa, intorno al 2006-2007, a Salerno, quindi è un lavoro che è nato a Salerno. Questi panestesi ci rovesciano addosso un po' tutta la città, quindi è una sorta di inversione di punto di vista o comunque di soggetto, di solito siamo noi a guardarli, spesso volentieri o comunque ad accorgerci che ci sono alle finestre, ai balconi e in questo caso sono loro che poi invece ci presentano tutto quello che vedono dentro la città. Salerno di sicuro è una città che offre queste corti e questi spazi a volte un po' nascosti, a volte anche un po' più dichiarati, l'effetto è una ricostruzione per mappe quasi, per questi tessuti, sfalsata, molto fuori fuoco ma con una secondo me giusta profondità che poi è l'idea proprio di andare in un luogo, di catturarne, diciamo, chiaramente da parte di uno che non conosce lo spazio in maniera definita o comunque che non lo vive al 100%, però di catturarne quegli aspetti che forse a volte vengono anche banalmente superati o comunque non sono poi il punto di interesse. Diciamo che l'effetto alla resa è sempre abbastanza scenico, è una videoinstallazione che decisamente gioca di questo aspetto, di questa scenografia. Grazie. Grazie. Grazie.